Si alzano i toni della campagna elettorale a Scicli e il clima si fa davvero teso. Il candidato sindaco Rammero Vanasia, in corsa con la lista civica, progetto civico per Scicli, sembra essere finito decisamente sotto l'attacco incrociato di chi vuole boicottare la campagna con attacchi sul piano virtuale che hanno portato alla temporanea sospensione dei profili Facebook del candidato, ma non solo. Ieri sera infatti la sede centrale del candidato a sindaco, ovvero la segreteria politica, è finita nel mirino di Gnoti Vandari. Il manifesto elettorale di Vanasia è stato imbrattato e con una bomboletta a spray sono stati riprodotti dei disegni, per così dire poco eleganti, sulla faccia del candidato, nonché il simbolo di una svastica, molto amareggiato per l'accaduto, l'aspirante sindaco di Scicli che però assicura che non si lascerà intimidire. Ma guardi, gli attacchi che sto subendo sono ripetuti, non capisco il motivo di tanto astio nei miei confronti e nei confronti del mio gruppo. Noi stiamo cercando di dire come stanno le cose in città, dai debiti alla mancata programmazione che abbiamo avuto con le ultime due amministrazioni. Poi vedere che anziché fare dei confronti politici e quindi sederci al tavolo, mi vengono a chiudere il profilo Facebook, mi vengono a rubare le bandiere, me li strappano. Ieri sera la cosa più grave è che mi vengono a graffiare e a colorare di nero con un brutto simbolo la mia sede dove fanno passare come se io fossi un fascista. Questa è una cosa inaudita, questa non è democrazia. Io penso che dobbiamo tutti abbassare i toni, dobbiamo metterci a un tavolo per cercare di portare Scigli fuori dalla crisi, perché questo è quello che conta. Anche l'attacco subito sui social network con il profilo Facebook del candidato, che è stato prima sospeso e poi riattivato dopo alcune ore, lascia la mano in bocca. Sì, questo è successo ieri verso le ore 14, stavo per collegarmi, ho visto che mi hanno oscurato il profilo, la mia pagina diciamo su Facebook, poi ho mandato al mio legale che ha provveduto, ieri sera me lo hanno nuovamente riattivato anche perché non c'erano i motivi per un segnale così forte, perché ripeto non ho mai parlato male di nessuno, ho attaccato i partiti e questo ci sta in una campagna elettorale così come potrebbero fare loro, ma anzi devo dire che loro, molti esponenti sia di sinistra che di destra hanno parlato male e sono andati sul personale, non ho voluto querelare le persone di cui nei miei comizi farò anche i nomi, questo mi dispiace ma li dovrò fare, per cui dico abbassiamo i toni, parliamo dei contenuti, vediamo quali sono i programmi, un programma che io proporrò alla mia città il 2 novembre, ho già pronto la lista e quindi è inutile che mi attaccate perché devo per forza partecipare alle prossime elezioni. La corsa alla poltrona di primo cittadino dunque continua nonostante i tentativi di intimidazione.